parliamo di forza magnetica facciamo riferimento al vettore f con m uguale a q che moltiplica v vettore b velocità campo magnetico il modulo del vettore f uguale a q per v per b per il seno di teta vedete l'angolo compreso tra la direzione del vettore velocità e la direzione del vettore campo magnetico quindi lo scriviamo qui anche in un'altra forma equivalente f con m in modulo uguale a q per v con n per b v con n rappresenta la componente del vettore velocità ortogonale alla direzione di b e v con n lo scrivo qui componente di v ortogonale al vettore di b qui facciamo una rappresentazione grafica quindi direzione b, direzione velocità e la forza f con m sendo un prodotto vettoriale ortogonale al piano individuato dalla direzione di b e dalla direzione di b se noi guardiamo questa relazione dove scriviamo b per v per q per sen teta che rappresenta appunto il modulo del vettore forza magnetica possiamo notare che il prodotto v sen teta in questo triangolo rettangolo rappresenta questo cateto ipotenusa per il seno di angolo opposto quindi possiamo dire che questa scrittura è equivalente a scrivere q per b per v con n forza di Lorenz f con m uguale a q per v per b agisce su una carica q in moto con velocità v non parallela al vettore b perché possiamo dire questo che diciamo la f con m è nulla se il corpo non ha velocità ha velocità 0 quindi è un corpo inquiete oppure il vettore v velocità e il vettore campo magnetico risultano essere paralleli ricordiamo sempre che la forza magnetica è ortogonale al piano individuato dal vettore velocità e dal vettore campo magnetico pertanto non compie lavoro in presenza anche di un campo elettrico noi abbiamo che la forza risultante che si può anche in questo caso pensare una forza di Lorenz generalizzata uguale alla forza elettrica più la forza magnetica è una somma vettoriale quindi q per e più q che moltiplica v vettore b nota come forza di Lorenz generalizzata la forza magnetica non compie lavoro l'abbiamo visto prima la forza magnetica utilizzata per deviare la traiettoria abbiamo visto in problemi già presentati in video precedenti come in alcuni casi la traiettoria diciamo della carica q in presenza di un campo magnetico ortogonale alla velocità abbiamo visto che risultava essere una circonferenza per cui la forza magnetica in quel caso ecco era una forza centripeta cioè cambiava la direzione del vettore velocità qui ecco rappresentiamo in un disegno una mano sinistra e qui ci si può aiutare per individuare naturalmente la direzione con il pollice del vettore forza magnetica l'indice indica la direzione del campo magnetico b questo è il medio che indica la direzione vettore velocità della qui è soggetta alla particella q naturalmente qui parliamo di una carica positiva che ricordiamo che la forza magnetica è il prodotto eccola scriviamo anche qui questa formula che è importante noi abbiamo scritto che f con m è uguale a q che moltifica v vettore b quindi in questo prodotto vettoriale naturalmente se q è positiva ecco questo discorso torna noi qui ecco indichiamo naturalmente una carica positiva che se q è negativa si cambia la il verso rimane la stessa direzione del vettore forza magnetica quindi velocità della carica positiva q che possiamo immaginare no presente in questo punto immaginiamo che qui abbiamo una carica che è positiva più q e quindi su questa carica naturalmente agisce la forza magnetica che è la seguente una carica appunto a cui che con che si muove diciamo nel campo magnetico con velocità v e questo comporta naturalmente sempre nell'ipotesi che v e b formi un angolo teta ossia ortogonali l'esistenza di questa forza che noi abbiamo chiamato forza di lorenz quindi la regola della mano sinistra è una delle regole tante regole disponibili per trovare il verso della forza risultante tra forza elettrica e magnetica ecco in questo esercizio è interessante leggiamo il testo un campo elettrico un campo magnetico uniformi e tra loro ortogonali si seguono in verso anti orario hanno le seguenti intensità abbiamo l'intensità di e è questo 2,35 per 10 alla 4 volt su metro di 0 85 tesla e questo una particea di carica positiva quindi anche qui abbiamo una carica più q di 0 28 micro culombo e dotata di velocità di 3,27 per 10 alla 4 media al secondo nel verso del campo elettrico determinare la risultante delle forze che agiscono sulla carica in questo caso ricordiamo che esiste una forza elettrica che è la seguente che è il prodotto di q per e lo scriviamo ecco da questa parte scriviamo naturalmente che f con e vettorialmente è il prodotto di q che moltifica il vettore campo elettrico e ed esiste una forza magnetica che abbiamo visto prima che è il prodotto di q che moltifica v vettore b è un prodotto abbiamo detto vettoriale ora cosa succede che la forza magnetica essendo un prodotto vettoriale se utilizziamo la mano sinistra dove l'indice è questo e questo è il medio il pollice diretto in questo senso quindi questa è la forza che agisce sulla carica positiva q non negativa questa è la forza f con m cioè f con e perché in questa direzione noi moltiplichiamo q per e abbiamo da questa parte la forza f con e facciamo una piccola correzione quindi noi siccome stiamo facendo qui il risultante dobbiamo pensare allora scriviamo qui quindi chiamiamo questa f con e perché io sto facendo la somma di due vettori naturalmente esiste un vettore che possiamo indicare in questo modo che rappresenta il campo elettrico e quindi se vogliamo moltiplicando la carica q per il campo elettrico e noi abbiamo il vettore f con e che è tutto questo questo è il vettore velocità che ha la stessa direzione di e quindi questo disegno va letto in questo modo noi abbiamo una carica q che è in un campo magnetico e anche in un campo elettrico e soggetta a una forza magnetica perché è dotata di velocità in un campo magnetico al tempo stesso abbiamo una forza elettrica ora la somma vettoriale questa in blu è la forza elettrica tra la forza magnetica e la forza elettrica da il risultante che è questo cioè dice terminare la risultante delle forze che agiscono il risultante sarà la somma di queste due sulla carica agiscono la forza f con e uguale a q per e ed f con m risultante somma vettoriale quindi io qui calcolo il modulo della forza elettrica e poi calcolerò il modulo della forza magnetica naturalmente questo è un vettore e qui abbiamo che la forza elettrica vale 066 per 10 alla meno 2 newton ordine di grandezza 10 alla meno 2 hanno lo stesso ordine di grandezza questo è 078 per 10 alla meno 2 per quanto riguarda la forza magnetica quindi la radice quadrata applicando pitagora calcoliamo il risultante ecco a questo punto possiamo dire questo che nell'esercizio si chiedeva di trovare il risultante delle forze agenti sulla carica q e abbiamo visto che i due vettori forza elettrica e forza magnetica sono tra di loro ortogonali quindi applichiamo il teorema di pitagora qui abbiamo un altro problema forza su una carica una corrente in un campo uniforme praticamente noi siamo fino adesso abbiamo esaminato i casi in cui una carica si muove con velocità v in un campo magnetico abbiamo visto che sulla carica agisce una forza f pari forza magnetica pari a q per v vettore b forza di lawrence in questo caso abbiamo un filo di corrente che quello in giallo percorso dalla corrente in un campo magnetico b uniforme prendiamo in esame un tratto che ho indicato in bianco con l di questo filo ci chiediamo quale forza può agire sul filo qui le cariche sono intese come gli elettroni che si muovono il filo conduttore e quindi siamo interessati questa volta a un moto di cariche non è più una singola carica no f con m che agisce sul filo ecco f con m è la forza che a cui sono interessato nel determinare che appunto agisce la forza magnetica un filo che abbiamo detto lungo l noi sappiamo che cambia la formula non è più q per v per b ma diventa f con m i per l per b questo è un prodotto vettoriale allora questo è il filo conduttore lungo l è la corrente i il volume di questo solido se prendiamo in esame un lunghezza l è aria per lunghezza n è la densia di cariche quindi se io moltiplico il volume per la densia di cariche abbiamo il numero di cariche presenti in questo volume poi se moltiplico quindi n per l è il numero di cariche il numero di cariche poi va moltiplicato per il valore di una carica per sapere la carica presente diciamo nel volume a per l quindi quello che perché perché noi diciamo che la forza magnetica è q per v vettore b q indica la quantità di carica se vogliamo presente nel tratto che noi stiamo esaminando no noi stiamo prendendo in esame un tratto lungo l di questo filo e naturalmente in questo filo diciamo che è presente una carica q quindi qui c'è una corrente i ma sappiamo che in questo filo possiamo pensare che ci sia una carica q perché perché abbiamo fatto il prodotto della dell'area a per la lunghezza del filo e abbiamo trovato il volume moltiplicando il volume per la densia di carica abbiamo trovato la quantità cioè il numero di cariche non la quantità poi moltiplicando il numero di cariche per il valore di una carica abbiamo trovato ovviamente la carica q presente nel nel conduttore lungo l questa formula non la conosciamo però qui dobbiamo sostituire naturalmente il vero valore di q allora v è la velocità di deriva naturalmente delle cariche nel conduttore v uguale a vd velocità di deriva delle cariche nel conduttore q grande quindi è n per a per l che rappresenta il numero di cariche q e il valore di una carica qui la forza magnetica sarà q grande che è n per a per l per q piccolo che q piccolo inteso come il valore di una carica per velocità di deriva per b no ma la corrente sappiamo che rappresenta il rapporto tra la quantità di carica che attraversa la sezione conduttore nella unia di tempo se noi qui facciamo il rapporto tra la carica q e il tempo t dove t è il tempo che impiega questa carica ad attraversare una sezione pari ad a quindi se io qui al posto di q scrivo n per a per l per q piccolo valore di una carica numero di cariche il tempo vediamo che il rapporto l su t rappresenta una velocità chiamiamola velocità di deriva quindi questa formula si può anche scrivere come i uguale ad n per a per vd per q quindi questa l'ho riscritta qui dove al posto di l su t ho scritto v con d è la stessa cosa ritorniamo alla formula che dà la forza magnetica la formula se noi ricordiamo bene era il prodotto di q per vd per b ora il nostro q è tutto questo è sempre lo stesso solo che questa volta cosa riusciamo a capire che n per a per q per vd altro non è che la corrente quindi quello che possiamo scrivere che la forza è pari per l l è questo per b abbiamo trovato l'altra formula che si applica quando in campo magnetico non è una carica che si muove con una velocità v ma è un insieme di cariche un flusso di cariche che attraverso un conduttore in questo caso usiamo questa formula alternativa i per l vettore b c'è sempre un prodotto vettoriale forza magnetica gente su un filo lungo l immerso in un campo magnetico b quindi ripetiamo qui abbiamo un filo conduttore naturalmente è attraversato una corrente i immerso in un campo magnetico questa è la forza che dice su questo filo 3 di teore di lunghezza l e questa forza f con m abbiamo appunto dedotto che si può calcolare con la formula che noi conosciamo f con m uguale ad i che moltiplica l vettore b allora che caratteristica è una forza ortogonale alla direzione di l di b la direzione di l è questa direzione di b è questa quindi è ortogonale i per l è un vettore che ha la stessa direzione vettore l e inoltre ha la caratteristica oltre che ad essere ortogonale il suo modulo uguale ad i per l per b per il seno di teta quindi sentete l'angolo formato dalla direzione di l di b se le b sono ortogonali la formula diventa f con m pari ad i per l per b diciamo che con questa ultima slide terminiamo la video lezione a cui ne eseguiranno altre su problemi di fisica fine della video lezione